Musica Buonasera e ben trovati, con grande piacere questa sera ospitiamo Marco Silvestri, il primo professionista che a Livigno ha aperto uno studio, uno studio tecnico negli anni 60. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Il primo geometra di Livigno è così? Ho aperto lo studio nel 65, dopo che ero stato invogliato dalle loro amministratori, che era Galli Dante dell'Alpina e Dottor Galli, che mi hanno detto di fare una prova. Di aprire l'ufficio, quello che si faceva a Livigno più o meno veniva fatto attraverso dei professionisti di Bormio o vari, quindi uno fisso non c'era mai stato. E quindi serviva. E quindi serviva. Erano i primi anni in cui Livigno iniziava a svilupparsi. Svilupparsi, erano i primi anni che esisteva un piano di fabbricazione che prevedeva un po' tutto lo sviluppo del territorio. Ecco, recentemente è stato insignito di un riconoscimento importante, perché da oltre 60 anni è iscritto all'albo. All'albo dei collegi geometri, sì. Abbiamo fatto una festa e un riconoscimento dell'attività a Grosio, con la presenza del prefetto e tutti i presidenti dei collegi, anche dei fuori e di Sondio, che hanno effettuato la premiazione e premiavano quelli iscritti all'album da 35 anni, quelli di 50 anni e quelli di 60. Sono partiti dalla premiazione di quelli di 35 e c'erano parecchi. Dopo i 50 anche lì era un po' di meno. Quando sono andati i 60 hanno chiamato il mio nome e non sono voti gli altri. Sono rimasto l'unico. Avevo già consegnato una premiazione quando ho fatto i 50 anni anch'io, una medaglia d'oro, la prima. E qui me ne è andata un'altra. Nonostante in Valtellina vi siano tanti geometri, certo, quasi nessuno può vantare una carriera lunga come la sua. Sì, nessuno. Della Valtellina ero l'unico. Magari c'era qualcun altro che si sono dimessi dall'ordine prima di me, però che ha mantenuto l'iscrizione e l'attività, ero l'unico. Certo. Ha detto addirittura, hanno detto che quelli che sono iscritti e rimangono iscritti, probabilmente gli consegnavano una laurea o no ris causa. Ma se la meriterebbe proprio, visto che per motivi familiari a un certo punto ha rinunciato ad ottenere la laurea, perché dopo aver frequentato la scuola di geometri a Sondro si era iscritto all'università. Sì, alla Bocconi. Ho fatto tre anni con qualche esame, perché allora i geometri non potevano iscriversi alla facoltà di architettura. Quindi l'unica aperta era la Bocconi. Poi dopo tre anni hanno aperto le facoltà anche di architettura a Politecnico e allora precipitosamente sono passato a Architettura. Ho frequentato un po', poi con tre figli esposati alla lontananza del Vigno da Politecnico non ho potuto continuare e ho smesso anche lì. Però poi si è tolto una soddisfazione qualche anno dopo perché si è iscritto ad un'altra facoltà, questa volta in Svizzera. Sì, e ho ottenuto un certificato di diploma di laurea in ingegneria con specializzazione nell'architettura. È per quello che ho avuto questa passione, ero continuata, anche pensando ai figli e ai nipoti. Per dare il buon esempio. No, per mantenere la tradizione. Per mantenere la tradizione, certo. Nato a Ponte in Valtellina da genitori entrambi maestri. Entrambi maestri, la mamma che era di Ponte e il papà di Livigno, che insegnavano rispettivamente. Maestro elementare, uno abitava a Livigno, il papà, e la mamma aveva insegnamento ma pernotava al Bernina, al vecchio Bernina. E quindi è cresciuto un po' a Livigno, insomma. Sì, venivo d'estate con i nonni e dopo il periodo invernale di frequentazione delle scuole stavo giù dalla nonna a Ponte. Che cosa ricorda di Livigno di quegli anni, quando era piccolo? Era piccolo e mi ricordo che le strade quando nevicava erano sempre chiuse. O venivano pulite davanti alle case solo a mano e basta. E quando c'era tanta neve ognuno si arrangiava. Si restava chiuso in casa? Sì, restava chiuso in casa. Mi ricordo anche che il pane lo compravano una volta al mese, lo prendevano le ciambelle in soffitto. Oppure in soffitto qualche volta trovavo delle tavole che preparavano per la cassa da morto. Preparavano già le tavole prima. E poi anche altre cose che i primi anni che ero in un ufficio, che trovavo tante case vecchie, dei mobili antichi, molto belli, eccetera. O li utilizzavano come legna o non gli davano nessun valore. Ero abitato un giorno una baita sua, che lo chiamavano Joan Bianch, che stava mettendo la stufa in un ginocchiatoio, tutto in gembro, bello. Entravano anche dei camion svizzera e venivano, compravano e portavano via tutto. E quindi a Livigno già all'epoca vi erano case ben arredate? Abitate con mobili fatti da loro artigianalmente. Non c'erano mobili che comperavano fuori o tutti i mobili fatti da falegnami locali o secondo il gusto locale o ingadinese. Quindi veniva da piccolo, poi ha cominciato a venirci anche da adulto per le vacanze? Da adulto veniva per la passione per la caccia. E quando invece si è trasferito a Livigno? Nel 65, definitivamente al 65. È venuto a Livigno e ha aperto subito lo studio? Subito, sì, perché sull'appoggio dei parenti e di chi era demandato in comune. Le avevano dato fiducia, le avevano devono vieni e apre uno studio. Figurati che andavo in giro, mi avevano dato l'incarico. Attualmente uno che costruisce paga gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzione, eccetera. A quei tempi c'era il dazio sui materiali da costruzione. E quindi io, oltre ad aver fatto il progetto, magari andavo anche a concordare il dazio da pagare. Cosa che andrei in galera ieri sera. Una volta funzionava così. Una volta funzionava così. Ecco, e contemporaneamente, se non sbaglio, è diventato anche tecnico del comune. Era un tecnico su incarico non fisso, saltuario. Allora non esisteva il PRG o il PGT, ma esisteva... No, il PDF, che era stato approvato nel 1963, mi pare. E vigeva solo quello. Cosa prevedeva il piano di fabbricazione? Prevedeva... Una zona era unica. E prevedeva... C'era una differenziazione qui in Teola, dove sotto strada c'era un indice sopra un altro. E in paese esisteva un indice unico, che aveva un'altezza massima in gronda di 15 metri. Per cui uno poteva fare i piani fino a 15 metri. E la mansarda, o le mansarda, non venivano considerate. E ne sono scappati un paio. Che sono arrivati con un progetto fatto. Che era quello di Pedretti giù in via Osterie. Via Rasia, scusa. E la Vega Europa. Che sono due volumi un po' che stonano rispetto a tutto il resto. Gli altri erano molto più ridotti. Molto più basse. Anche perché... Si edificava un po' secondo i bisogni delle famiglie, non per il... Prettamente per il turismo. Si pensava poco oltre quello. Certo. Subito dopo gli studi, se non sbaglio ha fatto anche un periodo di praticantato, sia a Milano che a Bergamo. Ma poi è venuto a Livigno e qui... Avevo già fatto tutti i praticantati per quattro anni. Due anni da uno studio di ingegnere architetto e un anno e mezzo da un ingegnere strutturale. Che faceva solo cementi armati. Quando è arrivato a Livigno, che ha iniziato a lavorare, le hanno dato carta bianca. Lei poteva fare... Facevo anche il calcolo di cemento armato. Facevo tutto. Facevo il progetto, facevo la direzione dei lavori, facevo il calcolo di cemento armato, e facevo un po' tutto. E quindi ha progettato edifici nuovi, ma anche ristrutturazioni importanti. Sì, anche ristrutturazioni. Ristrutturazioni però limitate un po' le case vecchie. Ecco, diciamo che allora gli unici fabbricati importanti erano gli alberghi. Gli alberghi e i quattro condomini, cinque condomini in Teola, quelli grandi di Govazzi. Gli unici edifici in cui era prevista la vendita di appartamenti. Ecco. Dopo anche il condominio Teola, qualcuno, adesso tutti non me li ricordo, però parecchi... Teola tantissimi erano per la vendita a turisti o a gente di fuori, tedeschi o... Certo. Gli unici edifici grandi erano gli alberghi e quindi il piano di fabbricazione prevedeva che cosa esattamente? No, prevedevano costruzioni di tutti i generi e tutti con lo stesso indice, salvo la zona di Teola che c'era un indice sopra strada e un indice sottostrada. Esisteva una commissione? No. No. Uno faceva le domande, andavano in comune, poi non mi ricordo bene se mai era il sindaco che decideva tutto, penso è geometra del comune. Quindi i poteri erano tutti in mano al sindaco? Sì, tutti. Erano frequenti gli abusi edilizi? Allora? Erano pochi. Erano pochi? Pochi. Pochi abusi o abusi minimi. Abusi grossi, non mi ricordo se ne siano stati. Ha avuto la fortuna di essere stato il primo professionista ad aprire uno studio e di avere fiducia piena da parte dei vignaschi. Della popolazione dei vignaschi, sì. E che ha mantenuto ancora. E che ha mantenuto. Ecco, allora il paese si sviluppava solo ed esclusivamente nella parte centrale. Non era stata vecchia. La teola non veniva considerata? Non la voleva nessuno. Il vignasco in teola non voleva assolutamente costruire, non comprare terreno, ma nemmeno costruire. È diventata terra di conquista poi per i forest, come si dice a Livignano. Per gli stranieri e per i turisti. Più stranieri che turisti. Infatti i primi clienti che hanno comprato i lotti di teola sono dei tedeschi. Ecco, mentre il centro era intoccabile, insomma, non vi era nulla in vendita, in teola era possibile acquistare. E la lottizzazione di questi terreni era proprio stata affidata a lei? No, la prima l'aveva fatta il geometra Rovari, Sandra di Bormio, quello che chiamavano Barbarossa. E dopo sono state fatte alcune varianti, però la lottizzazione primaria è stata fatta da lui. Ma la gestione di questa lottizzazione? L'ho fatta io. L'ho fatta lei? Andavo a offrire terreni a 100 lire al metro perché mi dessero l'incarico di fare la progettazione. Ecco, però a Livignano nessuno ci credeva ma poi sono arrivati appunto da fuori e sono arrivati anche investitori che hanno visto lungo perché poi sono stati costruiti gli alberghi più importanti da gruppi che venivano da fuori. Sì. Il Club Mediterraneo? Sì, il Club Mediterraneo, successivamente l'Intermonti, è sempre partito dai tedeschi e anche l'Intermonti. Il Club Mediterraneo è partito dai italiani, infatti era gente di Sondio che ha fatto la partenza. Come ha reagito il paese alla costruzione dell'Intermonti che comunque era un hotel di enormi dimensioni? Ma è stato un po' anche preso bene perché è stato l'unico intervento di sviluppo di Livigno. Aveva dato anche lavoro, insomma. C'era stato un po' all'inizio quello Sport Hotel che era stata l'iniziativa partita dal dottor Valle che voleva farci una clinica. Uno dei primi, anche quello. Ma altri grossi. Poi c'è stato i cinque condomini in Teolo ma sono tutti successivi. E tutto questo ovviamente ha portato posti di lavoro, cantieri. ma anche adesso che ce n'è troppo e di lavoro che infatti ci sono più grugoli di Livigno che tutta la Valtellina. E poi magari su questo torneremo. Ecco, poi lei ha costruito le prime case che non erano propriamente delle casette ma delle ville, insomma. Delle ville, sì. Ville oppure ville. Degli chalet con quattro, cinque appartamenti, tre. ma sempre in Teola a questo. A chi si ispirava? Vi era in quell'epoca una tendenza a copiare un po' l'architettura dell'ingadina? Leggera però. Leggera. Leggera perché sono state fatte che l'architettura ingadinese era quella con i graffiti con gli sporti con i bovindi eccetera. È stato fatto qualcosa. Dei graffiti ci sono stati cinque condomini in Teola che sono tutti i graffiti che sono stati presi da l'ingadina. Mi ricordo che il primo la prima costruzione di appartamenti l'avevo progettata nella zona Bivio che è dove adesso ci sono dentro c'era il negozio della Franconi e qualche appartamento la più grossa se no le altre erano tutte molto più piccole. E tra le case che lei ha realizzato venne qualcuna a cui è rimasto particolarmente affezionato perché una delle sue caratteristiche era che insomma costruiva le case più belle e poi le vendeva. Un po' la mia che è il vecchio Iagdaus in Teola dove il terreno l'ho comprato anche io a 100 litri al metro e la villa degli Amerigiani Morosani di fronte allo sport hotel. Una delle ville più grandi di Livigno ma anche su questa villa insomma ho sentito sempre raccontare tanti aneddoti come per esempio questa storia che vi era stata un po' di confusione tra metri cubi e misure americane o è leggenda? Ma le misure americane hanno riguardato soprattutto la divisione interna dove i proprietari Morosani avevano avuto la matrimoniale quattro volte grande come si faceva usualmente e poi bagni separati per lui e per lei pur essendo marito e moglie. I rapporti planivolumetrici non si rispettavano poi tanto perché si andava un po' alla buona diciamo in base al terreno. però per l'epoca era stata una costruzione imponente e si era forse la più grande che salvo quella destinata a clinica di fronte era stata quella più componente era diventata un hotel ecco e che cos'altro ricorda della costruzione dei Morosani come le era stato affidato l'incarico? Era stato affidato un po' soprattutto per il capriccio di lei che si è seduta su un muretto vicino alla strada proprio lì nella zona e c'era libero il terreno ancora di tutta la villa che era di due due Livignaschi e col marito ha guardato in alto e ha visto il vago si è innamorata del monte vago e ha detto io voglio una casa qui e mi ha messo a disposizione un conto bancario libero di accedere in tutti i modi per comprare terreno e costruire io mandavo il progetto in America nel Connecticut lei mi mandava o le varianti o il modo di cambiarlo e poi è venuta quando è stato finito tutto ed erano soddisfatti? soddisfatti sì infatti ancora loro hanno lasciato i figli ed è rimasto sempre così è rimasto uguale non sono mai state fatte varianti assolutamente ecco diceva prima che il piano di allora non aveva particolari restrizioni aveva un indice unico aveva degli indici troppo alti ecco però fortunatamente insomma tutto finì nelle sue mani essendo il solo che progettava ho limitato un po' tutto all'uniformità e quindi insomma ha evitato che Livigno si trasformasse in una prica o di edolo o di sondio ecco questo le viene riconosciuto anche dai Livignaschi che dicono insomma se Livigno oggi è così lo si deve anche al geometra Silvestri che ne ha conservato diciamo le un po' le caratteristiche umane diciamo ecco anche se oggi in realtà poi Livigno è stata tutta costruita adesso invece spazia ogni professionista spazia un po' su modo suo sempre secondo gli indici stabiliti dei piani certo crede che però l'estetica si cura di meno di una volta ecco crede che oltre al lavoro che lei ha fatto egregiamente perché sia nella nella costruzione di nuovi edifici che nella ristrutturazione aveva mantenuto quella che era la caratteristica tipica delle case di Livigno ma crede che anche la mentalità un po' chiusa abbia preservato il territorio sì la mentalità chiusa e la meno disponibilità anche di soldi perché una volta i soldi avevano valore adesso ne hanno un altro forse con l'aumento del turismo però non vi era neanche terreno in vendita pochissimi l'unico posto in vendita era Teola dopo c'è stato qualche privato ma forse l'1-2% sì e no ecco la mentalità chiusa ha preservato il territorio e poi forse vi è stata anche un po' di fortuna per Livigno sì è stata la fortuna è stata la fortuna perché non sono arrivati dei grossi gruppi da immobiliaristi o speculatori quindi era difficile entrare ecco diciamo la fortuna di avere un tecnico solo che quindi nelle costruzioni manteneva quelle caratteristiche quindi c'era sempre il legno c'era sempre la pietra sì erano pochi gli edifici costruiti senza legno era l'unico a cui risolgesi anche ecco senza altro la pietra il legno la caratteristica presa un po' dal locale qualcosina anche dall'ingadina ha preservato un po' il paese abbiamo detto la Teola era terra di nessuno e poi è stata terra di conquista ma anche Tre Palle era isolato e non veniva considerato dei Livignaschi Tre Palle non è neanche preso in considerazione infatti anche il sottoscritto di progetti a Tre Palle ne ha fatti alcuni ma in proporzione ad adesso pochissimo Tre Palle era considerato un po' per le strade per gli eccessi per gli eccessi interni a Tre Palle eccetera e l'altezza non si è fatto poco niente allora però verso la fine degli anni settanta se non sbaglio qualcuno aveva tentato di costruire un albergo in località il Passo d'Eira il Passo d'Eira sì era stato acquisito sempre da Tre Pallini da due investitori che erano uno che lo chiamano Marchese Marchese Verrocchio e il marito dell'Acciano Agostini che è stato acquisito per fare un grosso albergo ma di parecchie decine di camere che poi hanno iniziato con lo sbancamento poi è stato fermato dal comune non so io che non c'era ancora un piano di codicazione per la zona di Tre Palle o qualche indicazione e da allora non è più e dopo che poi è stato ricomprato dalle vignasche però diciamo che all'epoca non vi era interesse per poco c'era un po' questa iniziativa che forse l'ho vista un po' più lunga da parte di questi due come funzionava una volta quando si edificava insomma il privato che aveva disponibilità portava la sua idea al tecnico veniva ridato il progetto si andava in comune gli davano una licenza di costruzione perché allora era chiamata licenza di costruzione e alla fine della costruzione veniva il comune riscritteva un dazio sui materiali che veniva in quell'epoca io stabilivo un po' io e si contrattava e il comune riscritteva questo dazio sui materiali di costruzione ecco e cosa ne faceva poi il comune di quei soldi? probabilmente faceva opere opere pubbliche o parte di opere pubbliche e c'era qualcuno che vigilava sulle costruzioni? ma il primo vigile che hanno messo il vigno è stato il galli Valentino che poi ha fatto anche il sindaco ma all'inizio faceva il vigile urbano era l'unico che c'è stato in quei periodi lì e quindi controllava lui che però faceva le funzioni di vigile urbano semplice non controllava l'edilizia allora non era considerato insomma no non era l'edilizia non era considerata come adesso era una cosa un po' quante costruzioni progettava in un anno io penso in quei tempi lì che progettavo quasi il 90% delle costruzioni e quindi quante case anche perché allora ero solo adesso ce ne saranno una quindicina quindi è cambiato un po' enormemente il problema si occupava solo di edilizia privata o anche di edilizia pubblica? anche pubblica pubblica si progettava per esempio tante cose o il ponte lì che va in Pemonte i paravalanghi del motto diverse cosine insomma se non sbaglio aveva anche riqualificato ristrutturato la casa che oggi è diventata il museo quale? il museo sì quella era stata ristrutturata perché era di proprietà del comune dopo era ventilata l'idea di farci un museo però che sia stato fatto apposta per quello no era stata ristrutturata e poi ristrutturata da destinarsi eventualmente a qualcosa si è solo ventilata la possibilità di fare un museo dicevamo che una volta ci si fidava delle persone e la parola aveva un valore la parola aveva un valore anche la parola senza la stretta di mano addirittura quindi le affidavano soldi senza problemi sì infatti non ho mai avuto la minima discussione o grana o chiamala come vuoi certo avrebbe voluto fare qualcosa che invece non le è stato consentito ho potuto fare tutto attualmente non mi ricordo niente di che abbia avuto degli ostacoli veri certo più o meno si trova sempre una strada di accordo amichevole e basta e invece si è mai pentito di aver fatto qualcosa no forse di avere di avere un po' di essere mai intervenuto per fare dei dei piani regolatori con qualcosa di diverso o di più giusto per Livigno ma è stato fatto questi piani i piani regolatori o il governo del territorio sono stati fatti con la poca intervento da parte della popolazione o dei tecnici locali non intervenivano poco questo perché non su quello che sarebbe stato necessario fare e ma lì dipende da anche dall'amministrazione perché sicuramente uno che ti fa un piano di governo del territorio che abita in Toscana come è stato fatto non può sapere le esigenze della popolazione o di chi ci vive e di chi ci opera e quindi certe cose sono sfuggite un po' e quindi sarebbe stato necessario intervenire dal posto per dire qualcosa in più di intervenire di più quando si decide una certa certi programmi e quello che che Livigno è diventata oggi le piace? ma secondo me attualmente ci costruisci troppo questo lo dico proprio spassionatamente e poi sentendo anche i pareri dei turisti che vengono che i turisti che vengono meno male di 30 40 anni fa dicono che non lo riconoscono più e auspicare ci sarebbe auspicare che l'edilizia fosse meno invasiva ma secondo lei sarebbe possibile in Italia non si può contingentare l'edificabilità si basta fare i piani di governo del territorio con indici più bassi si limita automaticamente tutto certo ma il PGT è già stato fatto è stato fatto adesso non si può più niente ma prossimamente si faranno ancora varianti o nuovi piani non lo so e in quelle bisogna mettere presente però tornare indietro non si può più quello che è stato fatto resta ma secondo lei oggi si potrebbe in qualche modo gestire quello che ancora resta da edificare ma ormai ci è rimasto poco quanto potete dire che attualmente dopo l'approvazione dei piani dei dei PL che sono i piani dell'utilizzazione che sono stati fatti che sono stati già approvati e sono in costruzione non si possa più fare niente a meno di fare un piano per aumentare ancora questa edificabilità che sarebbe meglio non ci fosse anche perché economicamente è una legge del commercio economica che più roba c'è e più cala il prezzo meno ce n'è più si alzano quindi se noi fabbrichiamo di più a un certo momento quello che adesso vale mettiamo 6.000 euro al metro quadro o 7 più ne facciamo anziché aumentare e arrivare a 10 scenderà a 4 o a 5 è una legge normale se non sbaglio qualche decennio fa gli indici erano molto bassi oggi gli indici di edificabilità sono più alti? in certe zone sono più alti in certe zone per esempio prende il ciuc che è la zona dove abito io prima non si poteva fare niente alla zona verde e sarebbe stato meglio avessero fatto un indice più basso anziché non 0,25 non 0,15 parlo contro i miei interessi e dei miei figli però urbanisticamente sarebbe stato meglio non sarebbero sorte indici più bassi piani di meno e certe cose salvo le deroghe per esempio un albergo che quello che l'albergo è una struttura che che vale certifica di più la costruzione la costruzione di un albergo di una di una struttura così per gli appartamenti no se non sbaglio non apprezza neppure costruzioni moderne quindi tetti piatti queste cose non le ha mai gradite poco preferisco ancora il mantenimento di una struttura caratteristica locale come succede in certi paesi di Svizzera che hanno fatto dei piani di fabbricazione dove anche che obbligano rispettare l'architettura la tipologia locale eccetera che anche arrivasse un Renzo Piano un Foster un chi vuoi dei grandi architetti mondiali non può progettare una costruzione moderna ma deve attenersi alle costruzioni quei piani lì non sono in vigore in tutta la Svizzera perché a St. Moritz Foster ha costruito no infatti la vedi la differenza tra St. Moritz la bassa e quella alta ha fatto una casa rotonda per cui ma anche St. Moritz anche alto ne ha fatto una che sembra un lumacone che è quello del Foster sopra la piazza vai a Closters in Svizzera c'è un regolamento che dice costruzioni ma quello succede anche in Alto Adige non si può uscire fuori dai canoni locali o l'architettura locale quindi se lei potesse oggi andrebbe a limitare diciamo tutti questi interventi alcuni non tutti perché alcune sono fatte sono fatte bene quindi non danno fastidio ma altre invece non le piace esulano un po' da quello che è l'architettura locale la tipologia la caratteristica se fosse stato per lei avrebbe conservato maggiormente sì avrebbe conservato maggiormente la tipicità dell'architettura della zona della zona e quello che sento anche dai turisti che vengono non è che sia solo un'idea mia io trovo della gente che arriva dei turisti che dicono vi trovo il posto nel tal albergo no no guarda se mi trovi uno chalet tipo una baita che io voglio stare lì non mi importa anche se devo fare un quarto d'ora a piedi quello è un indice che influisce anche sulla mia idea si trova a discutere spesso di questi temi no le capita più che altro se ne discute con i turisti che vengono i turisti che venivano 30-40 anni fa o 50 anni fa che trova uno stravolgimento del paese e allora rimangono un po' delusi e infatti quelle richieste mi interessa un po' anche di accontentare chi cerca qualcosa da acquistare anche gente che ha possibilità economiche superiori a quelle normali che mi dicono vai a cercarmi la baita o il fienile non mi dicono vai a cercarmi l'appartamento e dico ma quello vado a cercarlo dove non arriva la strada non importa io però voglio ritornare a quello che era Livigno 50 anni fa e quindi ad edifici che insomma erano più piccoli più contenuti io ho un cliente che i genitori avevano acquistato un appartamentino dei monolocali che allora Livigno 50 anni fa era diverso e che i figli sono andati a cercare la tea nel bosco spendendo due volte tre volte quello che costa un appartamento vanno a cercare e comprano lì quindi quello è un sintomo della tendenza e delle esigenze di oggi bisogna anche dire che se dovessimo guardare alle costruzioni del passato le tea di fino 800 dei primi del 900 costruivano anche bene e sì perché erano costruzioni dove il proprietario aveva ai tempi mi diceva mio nonno che avevano anche ogni abitante di Livigno aveva dal comune o non so se dal comune o dalla provincia avesse l'autorizzazione a tagliare un certo numero di piante che servivano per la costruzione su cosa fantascienza non si tagliava una pianta in più no no non si tagliava gli assegnavano le piante per farla o fienile o stalla o la casa ma questo parlo certo nella notte dei tempi nel 2026 in Alta Valtellina si terranno le olimpiadi si la preoccupa no io su quella sono contrario posso dirlo qui sono contrario perché ho visto che tutti i paesi dove hanno fatto le olimpiadi alla finita le olimpiadi sono rimasti degli edifici come nel deserto non c'è più sono lì abbandonati oppure ci vanno quelli con gli appartamenti abusivi non ha avuto un successo nel momento le olimpiadi ma poi dopo sono rimasti delle catellarie nel deserto e non vorrei che succedesse in Calivigno non dovrebbe essere così perché queste olimpiadi saranno le prime olimpiadi sostenibili quindi dove non vi saranno nuove edificazioni ma però per fare le olimpiadi di edifici bisogna farne per la recepzione di tutto questo affollamento di turismi di spettatori di atleti che li useranno quel mese o due settimane quello che sono e dopo quando vanno via rimangono lì così dovrebbero smantellare tutto ma smantellare non lo faranno mai non l'hanno mai fatta da nessuna parte salvo salvo costruzioni quelle provvisorie o quello che che è previsto stando a quanto è stato presentato è solo ed esclusivamente questo no? quindi le tribune che verranno smantellate il villaggio olimpico che verrà smantellato oppure le altre o avere una destinazione sarebbe bello anche destinare una parte della costruzione a fare una casa per anziani che a Livigno non c'è e ci sarebbe necessità anche se qualcuno mi dice che è a Livigno con l'altezza gli anziani non stanno mica tanto bene lei che cosa ne pensa? io penso che anche una parte di queste costruzioni che si faranno per le Olimpiadi venga destinata a quello ci saranno 7-8 che hanno il mal di cuore non possono stare a Livigno ma devono andare in giù però altre tanti o qualcosa o meno stanno bene anche a Livigno quindi una casa per anziani non sarebbe una cosa brutta beh quindi allora non è completamente contrario all'ipotesi delle Olimpiadi no di fare costruzioni già pensando alla destinazione che servono nel momento di Olimpiadi o vengono smaltellate o adibite ad altre destinazioni se venissero destinate alle persone che vengono a Livigno per lavoro ma qualcosa è previsto di fare anche quello di essere una parte di istruzioni che poi ogni albergo possa acquisirne o fittarne una parte e questa parte poi vengano solamente esclusivamente destinate all'alloggio dei dipendenti anche quello non è sbagliato però bisognerà vigilare insomma lei dice bisogna fare attenzione bisogna già prima decidere o fare le cose con quella destinazione magari coinvolgendo tutto il paese sì chiedendo il parere quindi ai Livignaschi bisogna fare delle riunioni di quelle persone che potrebbero essere destinate a questo e sentire i vari pareri in modo che non vengano fuori delle cose che non vanno bene delle cattedrali nel deserto vi è qualche cosa che non le piace proprio Livigno che se fosse per lei dovrebbe essere abbattuto qualche costruzione no ci sono delle costruzioni che hanno fatto ultimamente che per me si potrebbe imporre che le facessero diversamente più più misura d'uomo troppo grandi troppo grandi troppo voluminose lo so che secondo gli indici ci stanno però si potrebbe anche farne a meno o farle edificare in un modo diverso architettonicamente in modo diverso invece per quanto riguarda le opere pubbliche ritiene che siano state fatte bene? sì sì quelle sì 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 sono a posto va bene bene io credo di averle fatto tante domande io ho risposto spero di non aver risposto malamente lei mi ha detto quello che pensava come la penso sì non mi resta che ringraziarla per essere intervenuto sì ecco l'unica una cosa che ci tengo che i figli e i nipoti possono continuare in questa strada che ho intrapreso 60 anni fa e sicuramente sarà così grazie Marco Silvestri grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito da casa un cordiale arrivederci grazie a tutti